Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. I cipili rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest per chi viaggia in direzione a Livorno. Con riguardo al trasporto pubblico locale a Firenze in occasione della manifestazione studentesca con corteo, modifiche alle linee 3, 10, 17 e 20. Segnaliamo inoltre la chiusura di alcune strade per consentire il corteo. La manifestazione interessa Viale Malta, Viale Fanti, Viale dei Mille, Viale dei Sette Santi, Viale del Campo d'Arrico e Viale Fratelli Bandiera. Modifiche al TPL dalle 17.30 fino alla conclusione della manifestazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.